Grazie a tutti i partecipanti. È un momento importante, corona una storia che è iniziata un po' di anni fa e che ha visto, come poi verrà detto successivamente, un sistema imprenditoriale, un sistema finanziario crescere insieme attraverso una partecipazione virtuosa, direi che posso spingermi a dire che può essere un esempio anche nazionale, di interrelazione pubblico e privato. Grazie all'onorevole Centemero che ha accettato di condividere con me le conclusioni di questa giornata. Non è un caso che Giulio sia qui perché è uno dei parlamentari più attivi su fronti che hanno a che fare con l'educazione finanziaria in senso ampio e quindi l'impatto che ha una corretta informazione e anche un corretto sostegno alla finanza nazionale in un momento storico in cui l'Italia fa ancora fatica a tenere il passo o addirittura a prendere il passo di altre realtà europee o nordamericane. Grazie all'assessore De Linoci, grazie ad Antonio De Vito, direttore generale di Puglia Sviluppo e grazie, vado proprio nell'ordine del flyer che avete ricevuto, a Stefano Peroncini di Euraga Venture, a Elisabetta Robinson di Indaco Venture, a Damedeo Giurazza e ad Alberto Stangheillini. Io cedo immediatamente la parola all'assessore De Linoci e come ho avuto modo di accennare dopo l'intervento dell'assessore e quello del dottor De Vito chiamerò i rappresentanti dei fondi per una testimonianza e poi chiuderemo l'onorevole Centemero e Dio. Grazie. Grazie onorevole e grazie di questa opportunità di valorizzazione di questo progetto regionale che tu ne hai visto la gemmazione che stiamo portando avanti con straordinaria determinazione che parte da una visione complessiva di attrazione ai talenti perché abbiamo avviato una strategia regionale che abbiamo denominato Mare a Sinistra, un po' rievocando un tema di controesodo. La nostra regione, come tante altre, soffre la grande malattia attuale italiana che è quella del caso demografico e quindi dobbiamo costruire delle strategie internazionali di attrazione ai talenti. Nell'ambito della strategia di attrazione ai talenti proviamo a costruire un grande filo conduttore provando a valorizzare chi decide di restare, chi decide di rientrare, per questo anche Mare a Sinistra perché tanti sono partiti con il mare a destra e rientrano, Mare a Sinistra lo dico a beneficio dell'onorevole che non vorrei avere un'antipatia al nome della strategia a prescindere, ma l'altra è quella di valorizzare chi sceglie, chi sceglie un luogo e la scelta del luogo sempre più in un sistema economico, produttivo, anche generazionale che transita di luogo in luogo e atterra nei luoghi dove gli ecosistemi sono forti e sono strutturati e l'ecosistema dell'innovazione su cui si è investito da anni per noi è un asset determinante. Il numero di start-up in questi anni cresciuti ci portano a essere tra le prime regioni italiane per numero di start-up. Questo perché si è investito molto nella gemmazione delle idee, si è creata una condizione importante che sicuramente dirà il direttore che con la riapertura di un bando che abbiamo attualmente in essere che si chiama Tecnonidi, la metà delle start-up dallo scorso anno vengono da fuori, significa che riconoscono l'ecosistema ma si è avviato un'opportunità di controesodo ma anche noi non ci vogliamo ammalare della malattia di contare quante nascono ma vogliamo provare a farle crescere. E per farle crescere purtroppo molto spesso andavano fuori, andavano fuori a cercare dei fondi di investimento, non si intersecavano col tessuto economico produttivo e quindi abbiamo scelto di costruire una strategia per attirare i fondi di investimento. Abbiamo messo a disposizione ad oggi un capitale di 40 milioni di euro che i fondi di investimento, che ringrazio anche la presenza e della straordinaria collaborazione, raddoppiano e che quindi costruiscono le condizioni in maniera indipendente di accompagnamento, crescita economica e finanziaria e ingresso nel mercato. Questo si inserisce e si interessa con un'altra strategia a chiudo che è legata alla nostra visione sul tema dell'innovazione. Per noi l'innovazione in questa programmazione è un asset determinante che abbiamo reso obbligatorio in qualsiasi tipologia di investimento. L'innovazione viene da un processo di visione organizzativa e di riorganizzazione delle imprese ma anche una leva economico-finanziare in una regione che subisce anche uno stereotipo e che al mezzogiorno non si spendono i soldi che vengono dati all'Unione Europea. La regione Budia è la prima regione europea per la spesa dei fondi comunitari e quindi ha dimostrato che se tu intacchi alcuni settori sei attrattivo anche a livello internazionale. Ora dobbiamo far crescere il nostro tessuto economico-bruttivo e quindi chiudo il termine dell'innovazione non solo è presente in tutti i nostri bandi ma per la prima volta abbiamo inserito anche per le grandi imprese che investono in Puglia obbligatoriamente di coinvolgere non solo il sistema di innovazione e ricerca ma delle piccole e medie imprese del territorio e per la prima volta anche le start-up che spesso subivano una difficoltà di accesso alla finanza agevolata data dal numero di bilanci che non le consentiva di accedere ai finanziamenti. Ma la cosa più importante e ha senso dirlo in questa vetrina nazionale è che stiamo avviando e quindi chiudo una strategia di open innovation istituendo una legge vera e propria sul tema dell'open innovation che adesso è in approvazione in consiglio regionale e che costruisce le condizioni per avere delle piattaforme virtuali e fisiche all'interno dei centri di ricerca e virtuali attraverso le piattaforme in cui proveremo a costruire un matching reale tra le possibili domande di innovazione e le possibili soluzioni provando a stimolare il mercato e a costruire le condizioni per cui il mondo delle start-up non sia un asset verticale ma diventi un asset orizzontale all'intuale sistema economico produttivo. Ma rafforzeremo anche l'attrattività sul tema orizzontale sulla nascita di start-up perché modificheremo il bando tecnonidi provando a costruire delle verticalizzazioni di accompagnamento legate ad alcuni temi strategici di cui la Puglia vuol fare una chiave di lancio nazionale quindi il tema della green economy e delle grandi sfide della green economy e del clima su cui stiamo lavorando, penso al tema dell'idrogeno, al tema della blue economy quindi la strategicità della Puglia come asset logistico al Mediterraneo ma anche al tema della space economy. Per noi fondamentale in una regione che per la prima volta può dire orgogliosamente ha un'infrastruttura legata al termine dello spazio e che quindi può valorizzare lo spazio porto di Grottaglie come asset di sperimentazione, gemmazione e crescita di start-up innovative. Grazie. Grazie all'ingegnere dell'Inoci perché l'avete capito l'intervento trovo sempre particolarmente stimolante quando un ingegnere parla di questioni economiche perché credo che abbiano una marcia in più con Giulio abbiamo avuto la fortuna di interfacciare il Politecnico di Milano da questo punto di vista e ho notato che oggettivamente c'è una spinta maggiore perché probabilmente il tipo di formazione che ha un ingegnere rende l'approccio all'economia più concreto e operativo. Allora Antonio, il fondo è un punto d'arrivo è un momento, in realtà un punto d'arrivo ma anche un punto di partenza ma è la sintesi di un lavoro fatto egregiamente dalla regione Puglia e da Puglia Sviluppo in questi vent'anni è un lavoro che ha consentito di valutare, verificare, nitinere come il sistema delle imprese pugliesi abbia reagito rilanciando direi alle politiche di incentivazione che la regione ha messo in campo e ha consentito, il connubio virtuoso che parlavo prima fra pubblico e privato di sperimentare in questi lunghi anni fino al momento in cui, prima che accettassi questa sfida romana insieme, ricorderai, durante il Covid, durante la pandemia ci siamo fatti una grande domanda e cioè mentre in controtendenza le imprese pugliesi i dati del PIL credo lo dimostrino in maniera chiara stavano sul mercato, lottavano con grande resilienza in quel momento ci siamo chiesti ma noi forse dobbiamo fare un passaggio e andare verso l'equity e quindi i bond e poi il fondo. Prego Sì, grazie onorevole Stefanazzi, è vero è un percorso che non dico datato però che abbiamo messo in campo in questi anni cercando di avere anche mi ricordo un po' delle considerazioni che ha fatto Pocanzi dell'assessor nel senso di abbiamo cambiato un po' lo dico anche onorevole Centemero paradigma anche in una regione del Mezzogiorno nel senso che abbiamo intanto ci siamo focalizzati a creare una forma di interazione pubblico-privata quindi tra strumenti agevolativi e strumenti finanziari ma facendo questo cercando anche di avere una programmazione pluriennale e strutturale perché poi naturalmente gli interventi devono avere una connotazione che abbia appunto un ambito pluriennale e strutturale e cercando nella strumentazione che abbiamo posto in essere in questi cicli di programmazione anche un meccanismo di una abbiamo percorso, abbiamo stressato il concetto di valutazione negoziale di procedura sportello questo devo dire con un focus poi in particolar modo legato ai temi dell'innovazione della ricerca e dello sviluppo ecco in una regione del Mezzogiorno lo dico a beneficio di tutti noi in questo ciclo di programmazione 14-20 abbiamo sostenuto investimenti per circa 8 miliardi di euro solo sul sistema imprenditore privato e un miliardo e 8 sono investimenti che sono stati destinati al settore della ricerca quindi diciamo oggi questo focus è stato messo a terra grazie a un lavoro di apertura quindi di collaborazione con il sistema bancario perché con il sistema bancario a livello regionale abbiamo messo a terra un esperimento non lo ricordava poco anzi l'assessore e l'onorevole Stefanazzi il tema del trendset cover quindi della galassia di portafogli siamo arrivati addirittura a costruire un portafoglio da 700 milioni di euro non ci siamo fermati abbiamo cercato di accompagnare le imprese sul mercato dei capitali quindi l'esperienza del basket pond accompagnare le imprese all'emissione dei prestiti obbligazionari chiusura di un portafoglio da 150 milioni di euro oggi arriviamo all'esperienza dell'equity perché perché come ricordava Claudio nel 2019 guardiamo un po' i dati diciamo c'era un flusso importante di istanze che venivano c'erano molte realtà soprattutto anche di grandi dimensioni i player nazionali e internazionali che vengono in Puglia grazie anche a questa apertura, a questa interazione, a questa collaborazione soprattutto con il sistema della ricerca per il miliardo e 800 milioni di euro è realmente importante che mi piace sottolineare quindi grandi corporate che vengono nel contesto regionale pugliese a sviluppare, a portare i loro centri di ricerca in quel momento facciamo una costatazione vediamo che la presenza delle start-up tecnologiche le imprese innovative ma soprattutto delle start-up tecnologiche era molto basso a livello pugliese eravamo la penultima regione in Italia per il numero di start-up iscritte al registro speciale della Camera di Commercio ecco, perché tutto questo? forse perché ancora non c'era un interesse da parte voglio dire anche del micro venture dei fondi, del business angel, delle piattaforme di crowdfunding dei family office quindi che cosa abbiamo pensato in quel momento? abbiamo detto, ma oggi c'è da fare un'attività sul preside e sul SID e quindi siamo intervenuti noi siamo intervenuti con un meccanismo di finanza agevolata che ha prodotto lo strumento di tecnonidi quindi uno sforzo che un'amministrazione regionale fa e mette in campo delle risorse per favorire la crescita, la nascita, la crescita e il consolidamento delle start-up tecnologiche nel giro di quattro anni da essere la penultima regione in Italia siamo arrivati a essere dalla settima all'ottava posizione ce la giochiamo sempre con la Toscana quindi diciamo un passo importante ricordo a me stesso che la provincia di Bari all'interno della classifica nazionale è la quinta città per numero di start-up tecnologiche perché questo percorso naturalmente oggi per noi è stato sempre importante trovare forme di interazione e di collaborazione pubblico-privato ci ha portato a dire abbiamo seminato, abbiamo fatto questa esperienza di tecnonidi dove la finanza agevolata oggi sollecita e intercetta la prima fase del preside e del SID oggi che cosa abbiamo fatto? Abbiamo pensato di consolidare questo percorso e quindi l'esperienza del fondo equity va in questa direzione quindi c'è un commitment pubblico che oggi sposa il commitment privato c'è un 50% di dotazione pubblica che oggi matcha al 50% di dotazione di fondi di venture capital che abbiamo selezionato attraverso una procedura di evidenza pubblica oggi abbiamo a terra 80 milioni di euro che sono pronti per migliorare le performance del nostro sistema delle start-up tecnologiche e delle imprese innovative e vogliamo sempre di più focalizzare l'attenzione su questo tema perché? Perché ci sembra che l'allineamento capitale di rischio start-up corporate oggi può rappresentare un'orevole centenario una grande opportunità non solo per la regione di Puglia ma penso per il sistema paese e dico questo perché? Perché forse oggi il finanziare, il sostenere l'innovazione può essere un passaggio decisivo e strategico proprio per il paese perché? Perché finanziare l'innovazione e puntare su un'innovazione oggi può aiutare l'industria a stare al passo con il cambiamento che è in atto voglio dire nel contesto economico internazionale e questo elemento oggi questa esperienza come diceva l'onorevole noi vorremmo che non sia l'unica perché vorremmo voglio dire che tutte le regioni d'Italia oggi possano seguire l'esempio del sistema pugliese perché ce lo dobbiamo dire noi c'è un equity gap che voglio dire oggi dobbiamo colmare nel 2013 c'erano soltanto 150 milioni di euro di operazioni siamo arrivati nel 2023 a farne 1 miliardo e 100 in 10 anni sono 8 miliardi ma se io vado a vedere i dati del primo trimestre del 2024 ci sono 12 miliardi di operazioni oltre i 2400 round che sono stati fatti nel resto d'Europa quindi oggi abbiamo un gap che dobbiamo sicuramente superare oggi penso che questa collaborazione tra investitori tra imprese e tra le istituzioni possa sicuramente favorire e supportare la creazione di un ambiente favorevole alla crescita delle start up italiane e non solo italiane perché come diceva l'assessore dell'Inoci oggi questi strumenti incominciano ad essere sempre più attrattivi e quindi perché no non solo l'operazione di reshoring ma anche di attrazione di start up che possono venire anche dall'estero grazie grazie chiamo qui accanto a noi l'amministratore delegato di Eurocavencio Stefano Peroncini così cominciamo prego Stefano vieni da questa parte così usiamo la sedia libera allora è stato detto che c'è una è stato sottolineato sia dall'assessore sia da Antonio De Vito il concetto dell'utilizzo dei fondi dell'utilizzo dei fondi comunitari e credo che in un contesto in cui si fa fatica a impiegare la pur ingente risorsa pubblica che è apparentemente destinata a sostenere operazioni come quella di cui stiamo parlando oggi che è una regione del mezzogiorno usi a volte anche forzando un po' il dato e avvale di negoziazioni con la commissione europea usi i fondi li abbia usati negli ultimi vent'anni e continui a usarli in maniera così innovativa credo possa essere un buon viatico perché abbiamo l'impressione che ascoltando molti operatori nel settore venture ma anche private in Italia che manchi proprio un collegamento e un'idea di prospettiva ampia rispetto al modo attraverso cui i capitali privati possano intercettare la finanza pubblica e generare su un mercato che ha un equity gap che è stato ricordato possa generare quella leva che consenta al sistema dell'equity in Italia di diventare finalmente un sistema degno dell'importanza del paese grazie sì effettivamente siamo oggi al battesimo di un'iniziativa che credo straordinaria di sistema che se vogliamo è quello che spesso ci manca come paese come singole regioni come città all'estero ci dicono sempre che siamo troppo focalizzati sul micro e siamo poco inclini a fare il sistema ecco questa è la parola magica di cui spesso abusiamo ma è proprio qui il tema cioè unire capitali privati con capitali pubblici per fare leva sui sistemi relazionali di competenze di tecnologie che sono disponibili sul territorio è chiaro che come gestori noi auspichiamo che tutte le regioni seguano questa bella iniziativa della Puglia però dobbiamo anche essere come dire consapevoli che il mestiere del venture capital è un mestiere altamente selettivo quindi dobbiamo cercare le migliori idee i migliori progetti per poi dargli i capitali la benzina le competenze e farli arrivare ad uno stadio successivo quando abbiamo deciso di partecipare all'iniziativa di Puglia Sviluppo avevamo conoscenza già della bontà del territorio della regione Puglia perché avevamo già delle collaborazioni in essere con numerosi centri di ricerca Politecnico di Bari Università degli Studi di Bari il CETMA l'Istituto Italiano di Tecnologia avevamo già visto diverse iniziative perché poi noi oggi lanciamo questo fondo di coinvestimento che si affianca ad un fondo che è già operativo e quindi in questi primi anni di attività abbiamo costruito delle relazioni e delle attività proprio sul territorio e quindi eravamo ben confortati dal fatto che in Puglia effettivamente ci fosse quell'ecosistema giusto e quindi al tavolo abbiamo dei gestori privati con risorse pubbliche e regionali il gestore privato porta anche risorse di altri investitori Fondo Europeo per gli investimenti per cui con un approccio internazionale la Cassa Depositi e Prestiti e anche numerosi investitori privati tutti insieme per spingere in un'unica direzione che vuol dire andare a cercare le migliori imprese noi lo faremo con un ambito di lettura sulla parte di scienza e innovazione dei materiali ma che sappiamo essere un ambito veramente molto trasversale che va a toccare guarda caso gli ambiti su cui la regione Puglia è forte per cui la parte manufatturiera che ancora è molto solida la parte dell'aerospazio che è stata citata ma persino anche la blue economy piuttosto che la parte di agritech tutto ciò è abbastanza impattato dal mondo del material science per cui siamo lieti di questa opportunità cercheremo di fare il nostro meglio cercando di fare leva su competenze nostre competenze del territorio in due direzioni ricercare delle nuove iniziative che nascono e devono crescere nella regione Puglia per andare verso mercati internazionali ma anche lavorando sulle nostre società di portafoglio noi oggi abbiamo fatto 25 investimenti che spaziano nell'ambito del deep tech sempre con la chiave d'ingresso sulla scienza e innovazione dei materiali che hanno già valutato e lo sapete perché ci sono delle interlocuzioni in corso in maniera molto interessante la possibilità di aprire delle unità produttive quindi non un desk in un co-working ma aprire degli stabilimenti produttivi aprire dei centri di ricerca focalizzati su determinate aree che sia l'additive manufacturing piuttosto che materiali avanzati con ambiti di applicativi diversi ci sono già delle idee concrete progettuali per poter portare sulla regione competenze ed esperienze di aziende che abbiamo già in portafoglio grazie grazie dottor Peroncini chiamo Elisabeth Robinson vicepresidente di Indaco Venture prendo spunto da quello che ha appena detto il dottor Peroncini uno delle chiavi che abbiamo sempre immaginato essere utili per rendere il sistema imprenditoriale pugliese aperto plurale contaminato è stato quello appunto di immaginare anzi sollecitare un'interazione con realtà che condividessero spazi di ricerca che in Puglia in qualche modo erano presenti ecco io le voglio chiedere questo fino a che punto immagina che questo progetto e quindi evidentemente anche l'interesse che la sua società ha dimostrato appunto sottoscrivendo parte dell'equity possa essere utile anche diciamo alle società di gestione come le vostre per fare quella crossing di tecnologie sul livello nazionale perché il sistema come ci siamo detti sia effettivamente in grado di produrre all'interesse del paese delle opportunità grazie è proprio un piacere essere qui rappresentando Indaco grazie per la domanda perché volevo proprio dire che questo modello in particolare è assolutamente quello che ci vuole esiste in pochi posti in Italia adesso mi spiego meglio abbiamo appena visto il rapport Draghi e cosa dice in grande innovation gap ma spaglio sempre perché penso al numero tipo 800 billion non lo so è innovation gap e dobbiamo proprio trovare modalità innovativi per address this question allora noi io vengo dall'independent venture capital io sono molto vecchia e quando sono venuta in Italia non c'era venture capital proprio zero poi adesso c'è tanto però secondo me un po' troppo seed 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 siamo ancora a livello ah Italia sì sì quelli con i bonsai start ups e allora c'è ancora in Italia un market failure nel start up e venture capital e lì ci vuole l'intervention del pubblico e abbiamo visto questo in Francia abbiamo visto questo in America ok però non può essere che il pubblico tieni a galla tutto no good poi anche non è non vinciamo solo perché abbiamo x lipiclato il numero di mini start ups dobbiamo creare in un modo che ha detto Stefano molto selectively molto selectively ricordiamo che il benchmark in venture capital è tipo così guardiamo mille opportunità investiamo e poi guardiamo più attentamente magari cento investiamo in dieci uno magari due però uno is the fund returner ok cinque dead francamente prima che muoiano meglio è per tutti perché così c'è soldi per gli altri mi spiace dire però è naturale quindi quello che vedo qui che è innovativo in Puglia allora avete cominciato giustamente perché siete voi il territorio e siete voi proprio accanto vicino le università per incentivare e coltivare il spirito imprenditoriale e fare i tecnonidi e poi adesso avete secondo me fatto una scelta coraggiosa di andare adesso in partnership con international vcs italian vcs però tutti noi investiamo in un contesto internazionale il nostro missione è di far crescere questi start up in modo che possono essere competitivi nel mondo internazionale e in questo modo porteremo un grande selettività possiamo aspettare da questo programma alcuni io spero che troviamo uno o due unicorn non che facciamo il solito prezzemolo noi portiamo altri diciamo LP altri investitori però in più secondo me è una cosa super importante quando noi venture capital investiamo investiamo sempre come un minority share di equity delle volte abbiamo un majority e di solito perché qualcosa è andato storto che si trova con la patata bollente no comunque il nostro obiettivo è di investire singolarmente in un minority portando altri capitali dall'estero o dal corporate e poi insieme avere un governance e una visione internazionale e già aiutando queste aziende di performare ad un benchmark international standard quindi quindi la scelta di prendere queste risorse preziose che avete e di fidarli in partnership con questi independent che porterà un grande selettività secondo me è proprio un modello che siamo all'inizio però sono molto 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 confident che porterà risultati e secondo me esattamente il tipo di esempio che abbiamo bisogno il total local government funding all'inizio e poi in partnership con il privato per per fare questo diciamo selezionamento e crescita per poi avere un cohort di aziende sustainable a livello internazionale e poi l'ultima cosa che è importantissimo ecco perché abbiamo fatto la scelta di fare la domanda per questo bando per il nostro nuovo fondo allora un po' diverso dai colleghi di Eureka noi abbiamo l'opportunità di proprio it's a blank page you know the sky's the limit e poi noi siamo particolarmente excited delle opportunità in deep tech e poi anche nel new space economy che è già stato citato due volte dove anche il nostro fondo ha una un history di investimento grazie adesso l'amministratore delegato di Vertis Amedeo Giurazza allora con Amedeo vorrei brevemente occuparmi di un aspetto Vertis è un po' la storia del venture soprattutto in una parte di questo paese quindi è la persona che ha devo dire in una fase storica in cui era un illustre diciamo il venture era un illustre sconosciuto o più o meno tale da Roma in giù ha avuto il merito non solo appunto di fare di essere presente sul mercato ma anche di fare quello che ci eravamo detto che abbiamo detto più volte cioè quell'educazione finanziaria che è servita immagino perché il sistema prendesse coscienza di questa opportunità ecco con lui vorrei approfondire il tema della exit che è il tema dei temi ed è grave o importante a livello nazionale lo è evidentemente con riferimento all'iniziativa che nasce nel mezzogiorno d'Italia grazie onorevole allora innanzitutto devo dire che penso sia noto a tutti che la vicinanza dell'operatore alle target alle start up aiuta molto non a caso in poco più di un anno abbiamo già intercettato incontrato analizzato 345 dossier del mezzogiorno e più di 100 della Puglia questo perché siamo vicini quindi diciamo ovviamente la misura ideata da Puglia sviluppo è ovviamente meritevole secondo me eccezionale perché attrae operatori nella Puglia noi abbiamo vinto un bando anni fa nel Lazio quando ancora non esistevano operatori nel Lazio oggi ce ne sono 5 quindi quello che mi auguro è che poi anche nelle regioni che oggi attraggono operatori possono nascere nuovi operatori di quella regione perché la vicinanza tra operatore e start up è fondamentale oggi purtroppo devo dire che quando ho iniziato il venture capital ormai 17-18 anni fa eravamo in 6 operatori in Italia oggi parliamo di operatori regolamentati e vigilati dalla Banca d'Italia oggi ce ne sono 40 però devo dire l'80% sono a Milano e non va bene e non va bene perché le start up periferiche non soltanto del sud ma anche del Triveneto o del Valle d'Aosto o della Liguria devono spostarsi e quando si spostano possono decidere di andare in Francia in Germania altrove non necessariamente a Milano quindi è importante che il pubblico si preoccupi di creare favorire alla nascita di operatori di fondi che possano operare in tutte le regioni d'Italia come mi auguro che anche la prossima misura che magari la regione Puglia voglia intraprendere sarà quella non di fare fondi paralleli ma fondi Puglia cioè magari stabilendo anche una componente pubblica molto ampia l'80% però di fondi che lavorino solo per la regione Puglia non in condivisione con altri fondi che possono poi magari guardare qualcosa nella Puglia cioè cercare di fare qualche passo avanti comunque io ritengo che operatore del sud ma non solo perché ovviamente abbiamo ufficio a Milano lavoriamo in tutta Italia ma l'attenzione al sud ovviamente è prevalente devo dire che ci sono tantissime opportunità anche perché il gap grosso che oggi c'è dalla parte industriale quindi il lato private equity sicuramente in nord voglio dire con sud c'è una profonda differenza ma a livello start up non è così non è così marcata questa differenza ci sono tanti centri di ricerca università competenti e quindi diciamo voglia di intraprendere nel mezzogiorno dove appunto è facile secondo me dare avvio a imprese qualche uno mi ha preceduto ha detto giustamente sì però non dobbiamo farle avviare soltanto dobbiamo poi supportarle sostenerle farle crescere poi magari non puntiamo all'unicorno ma anche agli orsacchiotti diciamo qualcosina che possono come dire dare soddisfazione diventare una PME interessante tecnologica creare posti di lavoro qualificati insomma quindi di una certa diciamo di un certo spessore e questo secondo me è la missione che sia il pubblico ma anche noi investitori cerchiamo di fare non soltanto mirare l'approfitto per i nostri investitori ma creare effettivamente una nuova componente industriale sui territori che possano essere il futuro delle imprese in questo caso della Puglia grazie chiudiamo con l'amministratore delegato di AVM gestioni Alberto Stanghellini allora prima con la dottoressa Amati discutevamo sui rischi che la manovra finanziaria potesse così entriamo ci avviamo verso le conclusioni potesse in qualche modo risultare pregiudizievole per le start up in particolare sul versante fiscale ora io ho il dubbio che rispetto in particolare al mezzogiorno ci sia un po' una carenza una mancanza di capacità di analisi e c'è l'idea che alcuni strumenti di incentivazione uno su tutti il credito d'imposta assorbano definiscano l'ambito comunque di sostegno di un'impresa meridionale immagino invece che l'approccio integrato che la Puglia in questi anni ha avuto sia la chiave credo poi le lascio la parola e credo che l'approccio integrato cioè l'utilizzo dello strumento finanziario anche pubblico o insieme al privato ma che copra un range di opzioni di sostegno che tengano conto della fase storica che vive la società piuttosto che delle prospettive piuttosto che della tipologia di mercato ecco questo approccio sia il più adeguato dal vostro punto di vista operando diciamo in un mercato che poi evidentemente risente dell'azione che il governo dispiega in termini appunto di sostegno mi chiedo ecco quale potrebbe essere quali potrebbero essere le proiezioni che dai territori un territorio come la Puglia possano arrivare le suggestioni perché finalmente il governo non questo evidentemente perché parliamo di una situazione che va avanti da anni possa intraprendere un sistema di incentivazione di utilizzo della leve anche di natura fiscale utile perché il sistema del venture possa crescere grazie ma allora noi come VM gestioni lavoriamo nel mercato del private equity del venture capital ormai da tanti anni abbiamo quattro fondi su verticali completamente diversi l'uno dall'altro due iniziative che stanno partendo però abbiamo una filosofia comune a tutti questi fondi la filosofia è quella di dover ricercare delle eccellenze regionali o nazionali che siano in modo tale da poterle sviluppare e poterle sviluppare per andare a cercare quelli che sono i talenti imprenditoriali e aziendali e questo è il motivo per cui noi abbiamo partecipato con entusiasmo al bando di Equiti Puglia perché secondo noi l'obiettivo del bando era quello di andare a garantire le condizioni e le risorse alle start up per svilupparsi ma non per svilupparsi da sole ma per svilupparsi in quello che può essere uno sviluppo di un distretto industriale che può essere regionale o provinciale il fatto che questi distretti possano crescere possano prosperare insieme alle start up è quello che poi diventa attrattivo non solo per i fondi pubblici ma anche per i fondi privati il connubio e la collaborazione tra il capitale pubblico e quello privato diventa il discrimine per riuscire a creare degli strumenti che ci permettano di agire sull'economia reale per creare del valore aggiunto creare un distretto però non può voler dire focalizzarsi su uno strumento e fornire solo quello strumento alle start up infatti come dicevano prima i colleghi la Puglia è partita da uno strumento che era il Tecnonidi che mirava a incubare quelle che erano le imprese e renderle eligible per quelli che poi sono strumenti successivi che sono quelli come il nostro adesso c'è una parte abbiamo fatto una parte con la regione e sicuramente le prime imprese che andremo a guardare sono quelle che sono state incubate dalla regione noi siamo già presenti siamo presenti non solo su start up anche su PMI abbiamo già investito in Puglia quando il collega diceva la vicinanza è fondamentale è assolutamente vero da quando abbiamo cominciato ad investire in Puglia abbiamo visto due fattori principali uno abbiamo portato delle persone in Puglia che potessero stare vicino alle start up e alle imprese e due abbiamo cominciato a conoscere molto bene la tratta Milano-Bari Bara-Milano-Brindisi che ormai fa parte dei nostri itinerari non dico settimanali ma quasi quindi quello sicuramente sì quindi creare i distretti e creare un tessuto imprenditoriale sicuramente può basarsi sugli incentivi gli incentivi come diceva giustamente vanno capiti e vanno fatti capire sicuramente quando c'è della commissione c'è commissione scusate della collaborazione tra il pubblico e il privato far capire questi incentivi è sicuramente più semplice quelli che ci sono adesso sono stati sicuramente un volano importante non nascondo che per chi investe avere degli incentivi da un minimo di come dire tranquillità in più insomma sia in termini di ritorno e rendimento sono completamente d'accordo sul fatto che ne vadano magari identificati altri più importanti e che magari possono anche come si sta cercando di fare sposare quelle che sono le performance della società se riusciamo a legare gli incentivi a quelle che sono le performance delle aziende delle società creiamo un rapporto win-win siamo tutti allineati verso lo stesso obiettivo non ci potrà più essere nessuno che dirà eh sì però a loro hanno dato gli incentivi a qualcun altro no c'è della meritocrazia l'incentivo è arrivato perché chi l'ha preso se lo meritava questo assolutamente grazie grazie allora Giulio concludiamo eh molte molte molti spunti eh io mi metto nella comodissima eh posizione di un mero deputato dell'opposizione quindi lascio a te che sei invece rappresentante della maggioranza di governo eh le conclusioni no in realtà c'è un tentativo devo dire bipartisan di eh intervenire di di sostenere alcuni strumenti di far fare a questo paese un salto di qualità è evidente che ci sono dei problemi eh di natura finanziaria che sono un po' delle catene che tengono bloccate i progetti più ambiziosi ecco che cosa ci dobbiamo aspettare eh cosa è stato fatto e cosa ci dobbiamo aspettare in prospettiva perché eh tutti i temi che oggi sono stati affrontati possano trovare eh anche diciamo da parte del governo da parte dello Stato eh quel sostegno che serve a serve a partendo appunto da alcune esperienze virtuose poi far diventare eh sistematico questo approccio all'equity eh 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 grazie Claudio per l'invito è stato molto interessante eh ascoltare questa esperienza e mh partendo dal tuo punto è chiaro che siamo in una situazione in cui a livello soprattutto europeo gli spazi fiscali e i bilanci degli stati si riducono sempre di più magari non non riguarda strettamente l'Italia in questo periodo soprattutto per i prossimi due anni perché la politica dei tassi eh la diminuzione dello spread potranno creare uno spazio fiscale almeno questo è quello che è quello che si intravede personalmente ehm a partire dalla mia prima legislatura che è quella scorsa 2018 ho cercato di avere uno sguardo un po' più a lungo termine cioè quindi a livello nazionale creare un framework normativo che sia favorevole all'innovazione e che completi il ciclo dell'equity che secondo me è un po' il punto finanziario quindi che cosa è successo con tante battaglie in una scorsa legislatura che ha visto tre governi alternarsi quindi è vero che da fuori spesso non si veda non si vede la differenza tra maggioranza di governo e governo o minoranza eh nel Parlamento e governo eccetera eccetera però il Parlamento e il governo sono due entità distinte e ognuno deve prendersi le proprie responsabilità e porsi degli obiettivi che spesso collimano se sei maggioranza col governo alle volte però ci sono punti di vista anche differenti perché perché il parlamentare più vicino ai territori può osservare punti di vista che sono anche particolari e quindi che cosa abbiamo cercato di fare a partire dal 2018 completare il ciclo dell'equity come per esempio lo vediamo risultato contenuto nella legge capitali parlando di piccoli non più di tanto ormai dematerializzazione di quotidi srl emendamenti su emendamenti sono stati autorizzati da Consob i primi due operatori che potranno registrare le quote dematerializzate mi piace definirle il gigante e la bambina perché c'è cdp e poi una start-up che si chiama flip una start-up fintech e questo cosa consente innanzitutto consente un exit più semplice dalle piattaforme di equity crowdfunding una motivazione nei confronti degli investitori perché prima investivi e non sapevi se avresti mai fatto un exit anche perché portare magari 100 persone al notaio diventano un po' complicato e abbiamo visto già il size degli investimenti sull'equity crowdfunding aumentare birra baladen un esempio per tutti e abbiamo visto anche il size sui mercati finanziari per andare sempre sul ciclo dell'equity il size degli investimenti su EGM aumentare abbiamo una media di 10 milioni quando fino all'anno scorso era un po' più bassa e andando a ritroso sempre più bassa quindi completamento del ciclo dell'equity non mi soffermo su altri particolari creazione di una cultura che non basta fare educazione finanziaria anche qui dopo mille battaglie siamo sempre riusciti ad inserire educazione finanziaria all'interno dell'educazione civica sempre con le regge capitali a scuola ma serve altro serve un questo tipo di iniziative cioè anche degli umbrella fund che non hanno il solo scopo di mitigare il risk appetite framework per gli investitori privati ma hanno lo scopo di creare una nuova classe di investitori sui territori una nuova classe di investitori e di imprenditori con la vicinanza con la vicinanza e qui mi preme sottolineare una cosa che spesso non consideriamo noi arriviamo qua Claudio e io e pensiamo ops emendamento e cerchiamo di risolvere le cose ma poi ti scontri con spazio fiscale ti scontri con come dire negoziazioni a livello di parlamento a livello di governo poi arriva RGS poi arriva tardi il parere poi e non riesci mai in realtà noi non consideriamo mai la multilevel governance dell'Italia non consideriamo mai il fatto che le regioni possono fare tanto che le camere di commercio possono fare tanto che i corpi intermedi sono importantissimi e creano moltiplicatori molto superiori ed è così che poi qui io assessore avrei brandizzato la strategia in modo diverso l'avrei chiamato mare a babordo però va bene anche va bene anche mare a sinistra e qui sì che si crea veramente valore che si crea competizione anche tra i territori c'è un'iniziativa simile nella mia regione e assessore dall'opposizione in Puglia quindi la maggioranza a Roma dall'opposizione in Puglia le do due obiettivi uno andare a stimolare anche l'accesso e tra l'altro a Napoli hanno appena aperto una sorta di ambasciata di borsa italiana Palazzo Schitella e imprese campane che si quotano ce ne sono sempre di più anzi qua prima di andare gli obiettivi bisogna che poi retroscenano nella prima finanziaria di questo governo ovviamente vado dal ministro e dico mi raccomando credito l'imposta IPO anche quest'anno e mi dice va bene anzi ci dice non ero da solo va bene però la sfida è non voglio vedere solo imprese della Lombardia del Veneto e dell'Emilia che lo utilizzano e allora ci siamo messi anche personalmente sono andato a Salerno sono andato in Sicilia sono andato in Campania a fare un po' di rossiò tra le imprese per pubblicizzare lo strumento in Lombardia è nato il voucher IPO e ovviamente non dovrei dirlo all'assessore perché se no il mio assessore Guidesi mi spara perché lui punta ad avere sedi operative e sedi legali in Lombardia di società che si quotano però uno dei prossimi obiettivi della Puglia che peraltro ha già imprese quotate può essere questo ce l'avete già ottimo perfetto ottimo ottimo quindi potenziatelo scherzo e poi si parlava di open innovation molto importante soprattutto se si traduce anche in corporate venture clienting corporate venture clienting perché l'Italia ha una sua struttura ogni regione ha un po' la propria struttura societaria di distretti e di quant'altro io credo che ci siano strumenti oltre al venture capital e al corporate venture capital come il venture building e il corporate venture clienting so che per esempio Enel già lo utilizzo come strumento della propria open innovation che crea un mercato mi domando sempre perché per esempio l'ufficio Marchi e Brevetti questo a livello nazionale non collabora con il registro delle imprese abbiamo tanti di quei dati conservati nel registro delle imprese se a ogni brevetto partisse un email a tutte le imprese che hanno un certo codice a teco noi creeremmo già un mercato a tante imprese anche piccolissime che spesso non hanno i soldi soprattutto ho visto tanti casi durante il covid anche in provincia di Bergamo esatto che si trasformi in un'opportunità anche di corporate venture client quindi si sta puntando sulle aziende di Stato bene che si faccia anche nelle regioni io mi taccio e viva mare a babordo bene grazie a tutti io direi diamoci un appuntamento prendiamoci insomma un tempo necessario per fare una prima verifica del risultato del lavoro fatto e magari mi piacerebbe poterlo presentare nuovamente qui con i protagonisti di oggi e grazie a tutti ancora grazie al novembre centemero grazie all'assessore degli Noci e a tutti ad Antonio De Vito e a tutti i rappresentanti dei sottoscrittori e io dico una cosa per chiudere questa della Puglia è forse perché anzi no certamente perché l'ho vissuta in prima persona un'esperienza straordinaria ma quello che più dal mio punto di vista quello che mi ha lasciato maggiori soddisfazioni è stato aver contribuito a creare un livello di interazione fra il sistema imprenditoriale nazionale e quindi aver avuto l'opportunità di valutare che quando il nostro sistema di impresa indipendentemente dalla localizzazione geografica coopera e collabora riusciamo ad avere a superare quel gap competitivo che è legato a temi di natura infrastrutturale di natura finanziaria che ancora ci tiene diciamo lontani dalle locomotive del nord Europa o del nord America ma riusciamo quando appunto cooperiamo collaboriamo quando mettiamo in comune storie conoscenze opportunità ricerche riusciamo a raggiungere risultati straordinari e credo e in questo sono molto d'accordo con quello che è stato detto fino adesso credo che senza immaginare di fare una rivoluzione epocale se alla fine di questa esperienza riuscissimo ad avere un certo numero di piccole e medie imprese che dopo aver onestamente e giustamente remunerato chi ha fatto gli investimenti sta sul mercato ed è in grado di resistere di andare avanti e di creare opportunità di lavoro e di sviluppo ecco credo che questa cosa potrà essere il risultato più importante che credo ognuno di noi intende raggiungere grazie ancora a tutti grazie a tutti grazie a tutti